L'unica persona, l'unica, che potevo chiamare stasera era il mio amico Fabio Menghi. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Com'è? Sono nero. Bene. Sono nero come la pece. Sono nero? Ci sono tante partite dentro le partite. Forse la gente non sa che tu giochi a calcio anche molto bene, che sei uno sportivo, che sei un alpinista. La gente non sa cos'è lo sport. Però ci sono partite nelle partite. Io adesso sto zitto, ti dico. Sono 4-5 all'interno di partite. Ci sono 20 minuti, un quarto d'ora al uno. È vero. Io, vabbè, non ti voglio, non ci siamo neanche sentiti, ci siamo scritti, ti ho detto video, ti ho detto sì. Allora, i punti, ti dico degli spunti, poi mi taccio. Ok. I cambi, le mancate occasioni che abbiamo avuto. il fatto comunque di poi, di scegliere, di coprirsi, il fatto di quello che ha detto Conte, che non è il rigore ranetto, ma c'è proprio quell'andazzo che non mi è piaciuto a livello di anni. E io ho avuto la stessa sensazione, anche io. Cioè, nessuno sta qua a dire che ci hanno derubato. No, 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 ci mancherebbe. Però la pensazione è quella. Ma penso come Conte a livello di arbitraggio. L'hai vista l'intervista su Sky? Sì, ho visto tutta l'intervista su Sky. L'arbitro, come dice Conte, in certe situazioni, in certi falli, in certe uscite, quando usciva l'Inter, che poteva andare in contropiede, oppure l'arbitro indirizzava più a favore del Barcellona. Anche i falli laterali. È una sensazione questa. Sì, si chiama l'andazzo, però il rigore c'è. Te lo posso dire? Guarda, tendo più a giustificare l'arbitro sull'episodio del rigore. È vero, bravo, bravo. Però sull'andazzo. L'indirizzo sono d'accordo con Conte. Ti posso dire una cosa? Ma se io ti dicessi Chelsea, Milan di Allegri, e forse anche quello prima, Chelsea, Milan, Roma, e forse in parte la stessa Juve. Cosa ne pensi di questo Barcellona, quando ha queste partite? Forse anche PSG? C'è sì, sospetti, non ho capito. Sono degli zanza? Hanno zanzato? Oh, ragazzi, l'hanno scoperto. Ma non si va in trasferta. Due anni fa su Geco c'era un rigore che era una roba... No, ma il rigore è su Geco. O a Madrid, risponde al Real. L'arbitragio è sempre un po' strano, comunque. Ma sarà per i fatturati? Una camisetta blanca, ma dai, era diverso. Ma qual è il problema? I fatturati, che loro piacciono? Il problema è che sono... Sì, sì, sì. Sono le... Barcelona e Real Madrid sono tra le prime cinque top club indiscursi. Bene. Allora ti dico io una cosa. Allora ti dico io una cosa. Alla faccia di tutte... È qui a casa loro. Alla faccia delle merde con le calcolatrici in mano che se le ficcassero in culo. Quando si parla di calcolatrici, quando si parla di fair play, queste calcolatrici che hanno le calcolatrici devono ficcarsene su per il culo. Devono capire che il fair play è nato per rendere il calcio, che è uno sport popolare, un calcio dove tutti hanno le stesse possibilità e non un calcio d'elite. Allora chi è che difende lo status quo? Chi è che dice che il fair play va bene, giusto? Io tifo il Milan. Forza Milan quando si sono opposti al fair play. Viva il Milan che ha speso 300 milioni anche se non poteva. Viva Fassone, viva Mirabelli in culo al fair play. Ma scusa, ma il fair play serve a questo? Che ci sono tre squadre? No. Vabbè, torniamo alla partita. I cambi, dimmi i cambi perché io vomito. I cambi negli ultimi anni del calcio moderno sono fondamentali. Bravo. Perché guarda il Barcellona, il Barcellona nel primo tempo è un Barcellona praticamente ridicolo, scherzato dall'Inter. Poi l'Inter ha avuto il difetto di non aver fatto il secondo gol, così chiudeva la partita e non c'era storia. Valverde, nonostante che è criticato, sia che a me non piace, è uno dei peggiori della torre. È un cretino. Però ha già visto giusto, ha detto, boh, mettiamo Vidal, togliamo Buschè e mettiamo Dio. Allora, Buschè l'ha tolto perché era nervoso, ha munito impalpabile. Errore di Valverde, no scusa, errore di Valverde, non mettere Dembélé. Ha messo un Griezmann impalpabile. Griezmann è mal visto. Minca Dembélé sembrava, è tu. Non volevano. Io ho notato, perché ho guardato proprio con l'alternino la partita, Griezmann e Messi non si sono mai passati il pallone. Non si sono mai guardati in faccio. Ma infatti il casino lì dentro nasce dal fatto che i sacrificabili erano Vidal, Dembélé e Rakitic, ok? Però Vidal è questa sera, ragazzi, secondo me... Appunto, ma è come la Juve. La Juve dove i Guain l'avrebbero venduto anche alla Serenitana e poi... Allora, la gente deve capire che non mi deve rompere i coglioni. Quando io dico che la Champions la vincono le squadre dai 30 anni in su, il Chelsea la vince quando raggiunge una certa maturazione, il Bayern perde due finali di cui una con noi e una in casa, lo stesso Liverpool. Le coppe si vincono a 30 anni e poi le squadre vengono sbantellate. Solamente il Milan e il Barcellona sono riuscite per questioni di soldi, ricambio, capacità a tenere in alto l'asticella. Altrimenti le coppe, come l'Inter, le vince a 30 anni. Quindi Vidal, devi comprarlo. Iguain, devi comprarlo. Vidal, se fosse arrivato a mese d'agosto, ero contento io. Nainggolan, io non posso raccontare, perché io non sono un uomo di fango, non posso raccontare cosa mi ha detto Spalletti. E non voglio neanche pensare che lui mi abbia detto che queste cose muoiono con me. Però Nainggolan ha avuto poi la possibilità, con il Conte, di rifarsi e ha scelto di fare la sua vita dove probabilmente lui ha proprio dei problemi di gestione della sua vita. Però sono quelli i calciatori... Abbiamo un professionista 100% che ha scelto così. No, però neanche Vidal è uno stinco di santo. Eh, però Vidal, vedi che comunque Vidal, quando entra in capo lo senti, cazzo. Lo senti, è pesante. Eh, ho capito. Però, scusa Menghi, perché Vidal lo voleva andare via? Dembélé si è impuntato, sennò a quest'ora giocavano con Neymar, eh? Sono parole loro, cioè sono parole del Barcellona calcio. Che Griezmann sia non voluto o mal voluto all'interno del Barcellona è evidente, è evidente. Minchia, è uscito lui, Suarez, Suarez... È evidentissimo! Meglio Suarez o Lewandowski? Eh, eh, si imprendiamo tutte e due. Sì, infatti. Mi metto in grave difficoltà. Lautaro mi è piaciuto. Eh, Lautaro... Mi è piaciuto stasera. Ma anche a me è piaciuto, sinceramente è piaciuto anche a me, anche se io in Lautaro vedo sempre quella... Nonostante che ha fatto un gran gol primo, però il colpo di testa, cazzo, ha fatto una gran parata per Steghe, ma... Era abbastanza centrale, lo metti 30 centimetri più in là e gol, capito? Lautaro mi manca un po' di cattiveria che magari, oh, è giovane, ragazzi. Quanti gol fa? Io ti faccio domanda a Bruciapeno ma ti ascolto. Quanti gol fa Barella quest'anno? Io dico tre. Eh, sì, anche io tre e quattro. Ha un grande difetto Barella che ha anche Brozovic, ragazzi di cuore, se si è due spanne sopra Barella e Brozovic, perché ha... Sì, che si è molto più forte. Perché è dotato anche... Potrebbe... Potrebbe... Sì, si può arrivare a farne 7, 8, anche 9, 10, potrebbe. Sì. La differenza del... Sì, si è l'unico che se domani la Bercerona gli dici mi dai 50 milioni, domattina loro te li danno. Anche di più te ne danno. Sì, anche di più. Mentre per Barella... Perché Barella ha già gran corsa, gran... No, stasera è la grande partita, eh. Sta entrando negli schemi di corte... Parlo di realizzazioni. Però, no, ma oltretutto anche la tecnica pura sbaglia sempre il primo stop e si allunga il pallone, perché si è allungato il pallone... Sì, lui ha lo stop un po' lungo. Però oggi... Guarda la differenza con Suarez sul primo e secondo gol, che stop ha fatto Suarez. Ha messo la palla per... Beh, Suarez è un puntero... No, ma a me... C'è un mezzo errore di Godin. Di Godin? No, lì c'è un mezzo errore di tutti. Io ho fatto oggi sei video, cinque dicevano una cosa. Non so se li hai visti, non pretendo che tu li vedi. No, no, no. Ho detto, l'Inter può solo prendere gol da quei 16 metri che costeggiano l'area di rigore in uscita. Eh sì, quello è vero. Perché ho detto, noi lateralmente... Infatti mi sono incazzato quando Griezmann ha fatto il colpo di testa. Perché, dico, queste palle noi possiamo solo subire con palla a terra ed entrate in aria. E questa cosa... Infatti un ragazzo mi ha scritto, Cazzo, Fabio, hai descritto il secondo tempo? Ma certo, Godin, non deve staccarsi. Anche perché non è che... Lui deve andare avanti, andare in progressione. Vabbè, comunque non si può pretendere che non sbagli. Mi dai un voto ad Asamoah compreso tra l'1 e il 2? Vergognoso. Sai che Asamoah è il nuovo peric? Cioè Asamoah è... No, dai, speriamo di no. Fa schifo Asamoah. Asamoah fa schifo in difesa. Si è fatto saltare come un birillo. Non ha fatto la diagonale. Messi l'ha saltato quel birillo, eh. No, ma lui ha perso anche delle palle infocate. Lui è stato... Ascolta, hanno giocato tutto il tempo a sinistra perché Asamoah non può circolare neanche accompagnato. Non può neanche accompagnare. Perché di là, tra Candreva e D'Ambrosio, qualcosì... Ti dico che Asamoah... Asamoah? Fa schifo, fa schifo Asamoah. Io non voglio più vedere entrare Gagliardini. Vabbè, ascolta, di cosa... Ecco, io c'ho i Gasperini per la gola, io c'ho i Gagliardini. No, ma i Gagliardini sono anche peggio perché i Gasperini, se tu cerchi di scattarare, escono. I Gagliardini sono sempre lì. Guarda che i Gagliardini, soprattutto nel naso, sono qualcosa che... Comunque io sono... Io posso sbilanciarmi, ma io sono molto fiducioso su quella partita che mi interessa molto di più di quella di stasera, che è quella di domenica, con la Juve. Io sono fiducioso dopo l'intervista. Dici? Io si dico che la mentalità, la consapevolezza, la grinta di Conte... Mentalità! La mentalità è fondamentale, ragazzi. La mentalità. Mentalità. Però ti dico che secondo me invece qualcuno avrà... È per quello che lui ha lasciato. Io ho paura che qualcuno dà una ripercussione fisica, perché stasera hanno corso tutti. Tutti. Io ho visto Brozovic, l'ultimo quarto d'ora era sulle gambe. Sì, no, Brozovic, sì. Però ti dico... Sì, deve recuperare. Lo stesso Lautaro... Tra l'altro, perché la Juve, che gioca... Ha tolto Sanchez stasera, perché Sanchez non è ancora... Non ha assolutamente 90 minuti. No, Sanchez... Però, scusa... Comunque, Sanchez finne nel primo tempo. Scusa, Sanchez benissimo. Ma perché lo togli per 10 minuti? Sì, ma se non c'è fisicamente... E allora, scusa, metti... No, appunto, metti subito Pulitano, non metti Gagliardino. Eh, quello sì, quello sì. Quei 10 minuti... D'Ambrosio e Candreva ci sta. Perché D'Ambrosio è più difensore, ma è pazzo in attacco e ci sta. Anche Candreva... Se togli Lautaro, metti Pulitano, non metti Gagliardini, perché sennò fai una spallettata. Sembra i trapattoni, quando metteva dentro... È quasi una trapattonata, è vero. Ha fatto una trapattonata. Perché ha spostato... Ha spostato il baril... Ha lasciato una punta stanca, perché guarda che Lautaro aveva sul pantaloncino... Lautaro era stanchissimo. Noi abbiamo giocato senza punte, ci hanno schiacciato... Bisogna anche ricordare a tutti che magari non lo sanno, perché si dimenticano. Il Camp Nou, come dimensioni, il campo, è il campo più grande del mondo. Sì. E quindi gli spazi da coprire, da correre, sono di più. Loro mali sono abituati a giocare in casa. E quindi... Bisogna sapere questa cosa. Quindi si corre di più al Camp Nou. No, ma noi... sono due metri più largo e cinque metri più lungo. Sì. Io glielo viettirei anche questa cosa, ma ce l'ho ne obbligherei a fare un campo più grande. Anch'io... No, i campi... Bravi. Non esiste, il campo deve essere uguale. Però ti dico... Ti dico che... L'Inter ha fatto correre la palla nel primo tempo, perché la palla non suda. Molto bene. Come diceva Lidom, fai correre la palla che la palla non suda. Non suda e l'Inter ha giocato una partita straordinaria. Tra i rigori... Sì, doveva fare 2-0, doveva fare. Allora, se fai il 2-0, se c'è rigore... Se fai 2-0 vinci. Come dice il grande Taddeo, loro non segnano più. Non segnano più sul 2-0. Non segnano più. Perché sul 2-0 facciamo una partita da Inter con Tiano. Tu invece gli attivuti lì e loro secondo tempo facendo i campi che hanno fatto. Torniamo alla tua domanda che i campi sono comunque fondamentali. Quante volte abbiamo visto partite decise dai campi? Tantissime. Comunque noi come panchina non abbiamo lungo. E ritorniamo ancora a mese d'agosto al mercato. E torniamo al mercato dove mancano dei pezzi. Che ha un'imperfezione. Noi abbiamo una panchina corta. A noi manca. I campi... Quelli che entrano tante volte... Anzi, tante volte. Quasi sempre da noi. Non sono all'altezza dei titolari. Come dice Manuelone abbiamo di nuovo giocato in contemporanea con D'Ambrosio, Gagliardini e... E Politano. E Politano che con tutto rispetto... Beh, poverino. Lui ci metterà... Con tutto rispetto non sono Vidal, Dembélé, Gagliardini e Barcellona sono altri campi, capito? No, tra l'altro... La stessa Juventus c'è una partita che ragazzi non erano vasto. Sì, sì, sì. Ma tu dici che la Juventus... Con la garra di Conte secondo me noi siamo messi bene. Io vedo l'Inter in lotta per lo scudetto fino alla fine del campionato e io confido nella società a gennaio di prendere due, almeno due, ma campioni, ma veri giocatori, veri campioni. Tu facendo così ma penso che non sono creati... I società non sono scemi, dai. Hanno capito che la squadra c'è. Sì, hanno capito tutto. Io ti dico che l'Inter del Trap uscì a dicembre con le lacrime l'8 o il 9. Noi in l'8 o il 9 avremo l'ultima partita con Barcellona. Se usciremo dal girone. Però poi l'Inter da lì è partita e ha fatto lo scudetto dei record. Io farei la firma. Tu faresti la firma a noi le campionate... Io farei la firma adesso. Noi il campionato... Andiamo neanche in Europa lì. Noi il campionato e i Gobi la Champions? I Gobi non la vincono la Champions. Io i Gobi... o il Liverpool stasera ha preso tre gol. Comunque guarda il Napoli. Anche il Napoli è andato a dire... Ha subito. Ragazzi, in Europa se non giochi le partite tutte le partite alla morte non vinci, non c'è un cazzo da fare. Risultati strani. Il Tottenham è andato a dire il 7 dal Bayern è buono qua a Londra. Certo, non c'era Persic. Sì. Non c'era Persic. È entrato dopo. Najax è andato a vincere a Valencia. Ha giocato bene. No, quello che fa impressione sono i due gol di... quello del Dortmund. C'è il cognome che finisce in Emily. Minchia, il primo gol allucinante. Sì, ho capito, ma la Slavia-Praga... Ma che gol ha fatto? Sì, ma sembrava le statuine, Menghi. Cioè, lo Slavia-Praga? È da ufficio inchiesta lo Slavia? È da ufficio... No. Il primo e il secondo gol? Beh, le statuine... Il primo allucinante. Le statuine del presepe, dai. Mi dicerebbe segnando sul pacquino ma è quel nome lì che è impronunciabile a vedere. Sì, quello impronunciabile. Sì, comunque, insomma, questo ti fa capire quando io difendevo la Roma di Difra che è arrivato a un passo, ha fatto 5 gol a Liverpool, a ritorno. Ok? Non lo so. Quando io difendevo la Roma ha eliminato il Barça. No, quando io difendevo la Roma di Difra e la gente veniva qua perché c'erano i romanisti che l'hanno contestato all'inizio del campionato e adesso piangono che in Coppa dei Campioni non ci arrivano più. Figurati quando fanno la semifinale. Io ho detto parlerò della Roma o con i romanisti quando torneranno in semifinale di Champions e si lamentavano. Ma io voglio vedere, se... Vabbè, facciamo finta che questo girone si concluda con il fatto che tu se vinci con il Barcellona passi. Facciamo finta che è così. Quindi... Non devi fare i quattro punti con Borussia Dortmund. No, ma facciamo finta che se vinci con il Barcellona passi. E quindi è tipo un'eliminazione diretta. Siccome la Roma ha vinto 3 a 0 dopo aver perso la 4 a 1, vediamo se l'Inter fa come Difra. Io in Conte 5 questo non conta l'Inter. Io ti dico una cosa su quello che... lo scorso sono usciti col Porto due anni fa. c'erano già... Però ti rendi conto che non gli hanno fatto toccato... A Roma il Barcellona non ha toccato quasi palla. Mentre la Roma a Barcellona ha giocato una partita non bella come la nostra, però ha fatto delle azioni e gli hanno zanzato un rigore. Quindi quando io parlo di calci... Lo zanzano sempre in Ligora a Barcellona. Sempre. Sempre. Chelsea, Roma, Milan. Incredibile. Incredibile. Ma a proposito di Milan... Ma il Milan... Ma io c'ho quella domanda lì che mi rode dentro. Ma il Milan punto di domanda io. Sono messi un po' male, no? Io ti dico la verità. Io sono nato nel 1980 per cui il Milan che giocava in Serie B la prima volta ha pagato per andarci. La seconda? La seconda c'è nato gratis. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo perché ero bambino. Avevo due anni e avevo tre anni e mezzo quindi non mi ricordo nulla. Poi dopo quando ho cominciato a capire di calcio avevo sette, otto anni e il Milan ha cominciato a vincere le varie scudetti con sacchi con i campioni quindi ho sempre visto un Milan di un livello medio-alto sempre. Questo qua quello di quest'anno a me sembra il peggior Milan da quando io guardo il calcio. No, lo è sicuramente. Ma hai visto un Milan così pessimo? Neanche per il Milan di Tavare quello di Contra ti ricordi? Sì, sì, neanche quello lì. Questo qui è un Milan che veramente rischia di essere coinvolto nella zona bassa della calcita. Invischiato nella zona del retrocessivo. Io lo vedo veramente invischiato. Sai che perdono a Genova? Sai che il Genoa con la Lazio? Lazio-Gena 4-0. Tu lo sai che Stracoscia ha fatto 100 parate? La gente non lo sa da noi. Io lo so che la del Milan perde a Genova. Lo so. E chi arriva? E chi arriva? Va via Gianpaolo? Chi arriva? Un bel butto di domanda. Chi arriva? Spalletti no. Le fonti delle fonti delle fonti. Spalletti no. Beh. 100%. Spalletti no perché tu ci ho mangiato te l'ha detto lui. Sì. Gattuso secondo me non tornerà mai al Milan almeno nel breve periodo perché non è cretino e lui è stato che sarebbe l'anno scorso e lui ne vado perché non è arrivato quasi quarto. Sono in disaccordo con la società. No però non c'è più Leonardo. Non c'è più Leonardo ma lui era in contesto con Leonardo. Sì. Secondo me è Gattuso. Però io torno al Milan gli scrivo Gattuso questo Milan qua eh. Beh questo Milan qua se lo sistemi è Milan spallizzato Milan che non hai ma non è colpa di Giampaolo secondo me comunque. Gattuso c'entra pochissimo. Gattuso gli hanno fatto campagna non c'è una programmazione non so tu dicevi di Ranieri Ranieri sembra veramente quello più indicato per portare il Milan alla salvezza di arrivare quinto ultimo di desto ultimo loro se non vanno in Champions è un altro anno in cui non hanno soldi non si riprende. No ma non vanno neanche in Europa League il Milan quest'anno non va neanche in Europa League è scritto già. Ma non può riprendersi non ha i numeri giocatori. No è possibile no sono troppo scassi i giocatori. Leao Piontek il portiere Piontek non lo so io spara ancora Piontek o spara salve. Eh spara salve. Ha fatto un gol col Verona è andato un gol su rigore e basta è volto. Chi vince la Champions così si saluto. Chi vince la Champions? Per me il Barcellona porco Dio. Manchester City. No lo vince il Barcellona. Io vedo City quest'anno. Ma io credo che sia Valverde. Infatti City quest'anno ha già 6 punti e passerà il turno per la prima volta per la prima volta nella sua storia di quella moderna della Champions riuscirà a passare il girone senza avere grossi affanni perché ha sempre avuto affanni in campagna. Sì è vero l'alpico Mancino lo passa in carrozza. Ma io credo che Io dico City Io dico Barcellona e Oliver. Noi andiamo fuori questo girone la Juve andrà fuori in quarti di finale. Dici? Sì ma vedo una cosa così. Ma la Juve è così scarsa dice. No non è scarsa la Juve ma i quarti di finale non si è scarsi se nelle prime 8 certo ah i quarti perché sì la Juve ci sta ah ok pensavo gli ottavi giusto no no quarti quarti venerdì venerdì video con anche il Taddeo su Interiore ok? Va bene presente ciao caro Menghi grazie ciao buonanotte ciao buonanotte grazie a tutti